Un benvenuto a questo nuovo appuntamento da parte mia e un benvenuto anche da tutto lo staff di Automax perché è proprio qui che ci troviamo, vi consiglio di seguirci perché questo sarà un appuntamento davvero speciale tante offerte davvero specialissime e poi una grande grandissima novità ma do subito il ben ritrovato a Lorenzo, ciao! Ciao Arianna, buonasera a tutti! E a te Vittorio, a te! Buonasera a tutti, siamo pronti per illustrarvi le nostre fantastiche offerte ma prima vi illustrerò chi siamo e dove siamo Automax è la concessionaria Opel per la provincia di Como e Varese siamo a Como, a Varese, a Erba, a Ogiatecomasco e a Cantù durante la trasmissione troverete in sovraimpressione indirizzo e numero di telefono per poterci contattare mi invitiamo comunque a visitare il nostro sito internet automax spa.it dove potrete lasciare il vostro recapito per essere contattati dal nostro venditore per qualsiasi informazione Beh, Vittorio Lorenzo direi di svelare appena appena qualcosa della grande novità di oggi Facciamo vedere qualcosa allora, dai Vittorio Alziamo almeno l'angolo della novità Ecco, quindi tra pochissimo parleremo di questa importante novità Ma prima? Arianna, andiamo a vedere tutte le nostre incredibili offerte e prima della novità assoluta parliamo del nostro SUV, SUV compatto Opel Mokka e anche qui tra l'altro abbiamo una versione interessantissima e nuova da poter vedere Che vediamo dopo? Certo, certo, certo Mokka è il SUV compatto con dimensioni giuste e il prezzo giusto Mokka è disponibile sia 4x2 che 4x4 a motori benzina 1.6 da 115 CV e 1.4 turbo da 140 CV Per i diesel invece abbiamo un nuovissimo 1.6 turbo diesel Euro 6 da 136 CV consumi ridottissimi, silenziosità straordinaria Abbiamo anche un motore GPL installato direttamente in fabbrica tra l'altro con il motore 1.4 turbo da 140 CV Inoltre Mokka è disponibile sia benzina che diesel con cambio automatico Per gli allestimenti abbiamo Mokka che non si può chiamare base perché ha già tutte le dotazioni indispensabili Mokka Ego che aggiunge chiaramente cerchi in lega, bluetooth, 4 azachistri elettrici radio CDMP3 e fendinebbia Si passa poi alla versione Cosmo che è chiaramente la più rifinita con in più il cerchio maggiorato da 18 pollici, gli interni in pelle e tessuto il clima elettronico bizona, gli specchietti ripiegabili elettricamente quindi completa di tutto quello che si può desiderare su una vettura Inoltre per chi vuole distinguersi con un tocco di sportività abbiamo una nuova versione B-Color che è completa come una Cosmo ma aggiunge cerchi neri, tetto nero e specchietti neri Mokka B-Color è attualmente in serie limitata quindi affrettatevi perché abbiamo solo alcune vetture disponibili in pronta consegna Il listino di Mokka parte da 19.300 euro ma solo a voi che ci ascoltate da casa riserviamo uno speciale sconto televisione per cambiare la vostra vecchia auto Mokka quindi può essere vostra a partire da soli 14.900 euro Inoltre per Mokka, come per tutte le auto acquistate da Automax avete in regalo un anno di assicurazione furto incendio oltre alla possibilità di estendere la garanzia XXL a chilometri limitati Lorenzo ma spieghiamo meglio questa esclusiva di Automax 8XXL, cosa vuol dire? Certo Diana, solo noi di Automax abbiamo questa garanzia esclusiva che si può estendere per 8 anni a chilometri limitati acquistando una vettura o un veicolo commerciale È una garanzia della durata di 8 anni che copre qualsiasi problema possa verificarsi nel tempo addirittura a chilometri illimitati Sì, avete capito bene Con 8XXL dovrete solo pensare alla normale manutenzione annuale perché qualsiasi imprevisto non sarà un vostro problema Ma 8XXL non è una normale garanzia estesa Prima di tutto è a chilometri limitati che è una cosa unica Poi comprende il soccorso stradale che potrete evitare con la vostra assicurazione Inoltre è trasferibile Infatti se tra 5 anni cambierete auto il vostro usato avrà un valore aggiunto perché è ancora in garanzia Ma nonostante tutti questi vantaggi abbiamo voluto rendere veramente unica la nostra garanzia Abbiamo aggiunto l'esclusiva card con scheda di memoria per creare la storia della vostra auto e certificarla nel tempo aggiungendo valore al vostro futuro usato Ma non basta Abbiamo creato il carnet sconti fedeltà riservato ai clienti Automas Con questo blocchetto avete immediatamente delle offerte certe con sconti che di anno in anno crescono con l'anzianità della vostra vettura Qualche esempio Sconto immediato sulla mutazione del 10% che cresce fino al 35% Sconto immediato sull'acquisto di pneumatici fino al 60% in base alla marca scelta Controllo pre-revisione gratuito quando sarà il momento della revisione ministeriale Sconto sulle eventuali riparazioni di carrozzeria dal 15% E visto che la vettura sarà seguita e curata nel tempo dai nostri tecnici vi diamo fin da subito un buono di 500 euro di supervalutazione del vostro usato che si sommerà a qualsiasi promozione futura Per noi il cliente è importante per tutto il periodo di vita della vettura e con la garanzia 8XXL sommata al carnet sconti fedeltà siamo certi di dare un servizio completo a 360 gradi Lorenzo è arrivato il momento tanto atteso andiamo a scoprire la grande novità raggiungiamo Vittorio e la scopriamo e la scopriamo così i nostri telespettatori avranno il piacere finalmente di vedere la novità Chi dice come si chiama questa stupenda macchina? Carla Carla è una City Car 5 porte lunga solo 3,68 metri ha un motore 1075 cavalli super economico e di serie avrà già tutto l'indispensabile climatizzatore, ABS, airbag, radio CD e Bluetooth Carla ha un listino che parte da 9.900 euro e con rottamazione la offriamo a 8.500 euro La versione Enjoy che è già completa di tutto l'indispensabile ha un listino di 11.600 euro con uno speciale sconto rottamazione e la offriamo a soli 8.900 euro Parliamo ora di nuova Opel Corsa Partiamo subito Arianna È disponibile a 3,5 porte in vari allestimenti dall'economica Enjoy alla sportiva B-Color fino alla lussuosa Cosmo Per i motori abbiamo 3 benzina da 70 a 115 cavalli e 2 diesel da 75 e 95 cavalli tutti già Euro 6 anche con cambio automatico I prezzi di listino Corsa partono da 13.350 euro ma con lo sconto che vi riserviamo per cambiare la vostra vecchia auto può essere vostra a partire da 9.550 euro per la 3 porte e 10.300 euro per la versione 5 porte Inoltre solo da auto ma vi regaliamo un anno di assicurazione furto incendio Non dimenticate poi che potete avere Corsa solo da noi con 8 anni di garanzia a chilometri limitati E dopo aver visto la grande novità ovvero Carl la nuova Opel Corsa ora parliamo di un'altra piccolina di casa Opel che è proprio Adam Eccola qui Adam la più sfiziosa la più sportiva e quella chiaramente dove ci si può sbizzarire maggiormente nel creare degli allestimenti chiaramente a proprio piacimento Adam è la city car dalle mille personalità diversi allestimenti Gem completa ma economica Glam la più elegante Slam dalle finiture sportive poi c'è la super sportiva S con il suo motore 1.4 da 150 CV ma non basta Adam è disponibile anche nella versione ROX che richiama un piccolo SUV con un assetto rialzato oltre a parafanghi allargati e paraurti dedicati l'offerta per Adam questo mese è straordinaria pensate che se avete un'auto vecchia in permuta vi offriamo fino a 4.000 euro e un Adam può essere quindi vostra nella versione base addirittura da 8.900 euro per Adam vi invitiamo a vedere tutte le vetture disponibili sul nostro sito è un sito dedicato e si chiama www.adamstore.it dopo avervi illustrato nuova carla corsa e la splendida Adam scorriamo velocemente le offerte sul resto della gamma Opel con offerte imperdibili per cambiare la vostra vecchia auto Astra sia berlina che station wagon con sconti incredibili fino a 7.000 euro e quindi può essere vostra da 12.400 euro la 5 porte e 13.400 euro la versione Sport Tourer Meriva ideale per chi ha bambini piccoli ma anche per chi vuole una monovolume innovativa dalle dimensioni compatte con sconti fino a 6.000 euro e quindi può essere vostra a partire da 12.900 euro la lussuosa Zafira Tourer 7 posti con finiture da ammiraglie e con sconti fino a 5.000 euro la offriamo a partire da 19.800 euro Automax è anche concessionaria Business Center specialista veicoli commerciali anche qui abbiamo qualche offerta per aziende con autoparco Combo disponibile in due lunghezze anche tetto alto con sconti fino al 34% a partire da 9.850 euro dei tax Nuovo Vivaro disponibile van anche passo lungo e tetto alto oppure versione Combi nuove posti con sconti fino al 33% a partire da 15.300 euro dei tax per la versione van 16.900 euro dei tax per la versione Combi Infine Movano che soddisfa qualsiasi esigenza con 4 lunghezze di pianale differenti 3 altezze e con telai da allestire su esigenze specifiche Per Movano abbiamo sconti fino al 37% e la offriamo a partire da 16.400 euro dei tax Vi ricordo ancora che da Automax a tutte queste offerte aggiungiamo un anno di assicurazione furto e incendio oltre alla possibilità di scegliere l'estensione di garanzia 8 anni XXL a chilometri illimitati Ma le offerte non sono finite andiamo ora a vedere qualche esempio di autovetture aziendali chilometri zero A te Vittorio Adarrox Aire con tetto apribile 1.270 cavalli listino 17.800 euro prezzo chilometri zero 13.500 euro Corsa 1000 turbo 90 cavalli in versione bicolor 5 porte 18.700 euro il listino prezzo chilometri zero 13.500 euro Passiamo ora a Meriva monovolume piccolo di casa Opel in versione 1.400 cavalli bicolor listino 21.500 euro prezzo scontato chilometri zero 14.800 euro Meriva 1.600 turbodiesel 95 cavalli equipaggiamento Elective listino 22.500 euro prezzo chilometri zero 15.500 euro Passiamo adesso a Astra 1.700 turbodiesel 110 cavalli 5 porte 24.200 euro 15.900 euro prezzo chilometri zero Astra 1.600 turbodiesel 136 cavalli 5 porte in versione Cosmo con navigatore 28.300 euro il listino prezzo chilometri zero 19.500 euro Un'altra Astra 1.600 turbodiesel 110 cavalli Station Wagon in equipaggiamento Elective 26.200 euro il listino prezzo chilometri zero 17.900 euro Zafira Tourer 1.600 turbometano 150 cavalli in allestimento Cosmo metano vuol dire B-Fuel sia benzina che metano listino 31.900 euro prezzo chilometri zero 23.900 euro Passiamo ora in signa in equipaggiamento Station Wagon 2.000 turbodiesel 140 cavalli listino 32.900 euro prezzo chilometri zero 25.500 euro e adesso vediamo Mocca 1.700 turbodiesel 130 cavalli 4x2 in equipaggiamento Ego 25.300 euro listino prezzo chilometri zero 19.900 euro Abbiamo inoltre anche la versione 4x4 sempre 1.700 turbodiesel 130 cavalli e sempre in equipaggiamento Ego in vari colori con un listino da 27.650 euro prezzo scontato chilometri zero 21.400 euro Abbiamo poi altre Mocca in versione Cosmo sempre 1.700 turbodiesel 130 cavalli in equipaggiamento due ruote motrici vari colori disponibili 26.400 euro il listino prezzo chilometri zero 20.900 euro Infine una 4x4 in allestimento Cosmo sempre turbodiesel 130 cavalli listino 28.750 euro prezzo chilometri zero 22.500 euro Infine diverse vetture aziendali tra cui un Adam S 1.4 turbo 150 cavalli con un listino di 21.200 euro e un prezzo scontato di 15.900 euro Abbiamo inoltre diverse nuova corsa in vari colori e in diversi allestimenti ma molto accessoriate sia motorizzazioni benzina che diesel affrettatevi per poter scegliere la vettura che desiderate Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento e vi invitiamo davvero a venirci a trovare in una delle 5 sedi Automax per scoprire le offerte di cui vi abbiamo parlato poco fa e soprattutto la grande grandissima novità che è Carl Certamente grazie Arianna siamo sicuri di aver incuriosito il nostro pubblico e vi invitiamo a venirci a trovare soprattutto perché solo da Automax c'è la possibilità di avere per l'acquisto di un'auto nuova un anno di assicurazione furto incendio gratuita quindi offerta e la possibilità di estendere 8 anni la garanzia XXL a chilometri limitati solo da Automax venite a trovarci E ricordiamo anche il sito allora visto che siamo in chiusura www.automaxspa.it Allora grazie a te Lorenzo Grazie a te Arianna e buonasera a tutti Un saluto a te Vittorio Un saluto a tutti e vi aspettiamo numerosi e vi aspettiamo Ciao Grazie